Si conclude oggi al porto turistico Marina di Pescara, sotto costa, il Salone Nautico del Medio Adriatico. L'evento promosso dalla Camera di Commercio Chiedi Pescara e il Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Asso Nautica. Per tre giorni gli appassionati del settore hanno potuto contare su un'appia aria espositiva indoor e outdoor in mare, dove poter vedere e provare le ultime novità in tema di imbarcazioni e natanti, motori marini, elettronica, accessori nautici, ponti legaleggianti, prodotti nautici, pesca sportiva, sport acquatici, subacquea, design nautico, moda mare e tanto altro ancora. Così come Sottocosta ha consentito di partecipare a numerosi momenti di approfondimento e svolgere diverse attività per grandi, piccini, neofiti ed esperti. Siamo con il Presidente nazionale Assonautica Giovanni Acampora, tra l'altro Assonautica nazionale patrocina questo evento, quindi vuol dire che ci credete? Sì, Assonautica italiana è l'espressione di Union Camera nazionale, quindi è il braccio operativo di Union Camera e del sistema camerale rispetto all'economia del mare. Non poteva non essere presente a un salone come questo perché ha un'importanza rilevante e perché c'è il sistema camerale. E quindi noi riteniamo che bisogna continuare in queste manifestazioni perché è un momento estremamente rilevante per tutta la blu economia italiana. Abbiamo finalmente un Ministro per le politiche del mare, Gennello Musumeci, abbiamo un piano trennale del mare in cui io siedo anche al tavolo degli esperti in rappresentanza di Assonautica italiana. È un momento per tirare le somme, recuperare la nostra identità marittima della nostra nazione che probabilmente in quest'ultimo periodo avevamo anche un po' perso e quindi manifestazioni come queste sono significative, sono importanti. Bisogna lavorare su un circuito di manifestazioni, un circuito che rilanci il turismo nautico e devo dire che qui a Pescara stanno facendo un lavoro egregio. Io devo ringraziare anche il mio Vice Presidente nazionale vicario che è proprio di Pescara, Francesco De Filippo che è il Presidente anche di Assonautica Pescara e per il lavoro che sta facendo e la Camera di Commercio con cui ci lega anche un patto di collaborazione con la Camera di Commercio che io rappresento che è quella di Frosillo e Latina insieme a quella di Chiedi Pescara proprio sullo sviluppo delle traiettorie nuove della Blue Economy.